. Andrea Damante manda un messaggio aereo, Giulia reagisce male. Giulia Delellis riceve un messaggio aereo da Andrea Damante, la sua reazione stupisce tutti. . Giulia Delellis al Grande Fratello Vip ha ricevuto un messaggio aereo da Andrea Damante. L'ex tronista di Uomini e Donne ha deciso finalmente di inviare un messaggio alla sua fidanzata. Ma quest'ultima pare non abbia proprio apprezzato il gesto. . Secondo Giulia, Andrea avrebbe potuto scrivere parole migliori, invece di scherzare. . La Delellis ammette agli altri concorrenti di essere rimasta molto male di fronte al messaggio ricevuto. . Dopo tanti giorni di distanza, Giulia si aspettava forse parole più importanti da parte del Damante. . L'ex corteggiatrice dichiara ai suoi coinquilini che questo fa parte del carattere di Andrea, il quale non si sbilancia mai più di tanto. . Luca Onestini ha chiesto alla Delellis di fare almeno un sorriso. . Ma la giovane si aspettava ben altro dal suo fidanzato. . Anche Ivana Mrazova e Ignazio Moseri intervengono per riprendere Giulia, la quale resta ferma nella sua posizione. . . Raffaello Tonon, come anche gli altri tre concorrenti, non comprende la reazione della Delellis. . Giulia Delellis delusa dal messaggio di Andrea Damante al Grande Fratello Vip. . Sai quanto solletico ti aspetta? Più 18. . Questo è il messaggio aereo di Andrea Damante per la sua Giulietta. . La Delellis, però, non ha preso affatto bene la frase utilizzata dall'ex tronista, che avrebbe potuto scrivere qualcosa di più importante. . Diciamo che deve fare sempre quello tirato. . Dovrebbe mettere davanti l'orgoglio, invece di fare sempre il figo della situazione. . Questo è il motivo per cui Giulia non è riuscita a sorridere di fronte all'aereo. . . Non era il messaggio che mi aspettavo. Ignazio, intanto, cerca di farla ragionare. . E una conferma da parte sua. . . Lui che è fuori è tutto a posto. . Io fossi in te apprezzerei. . Ma la Delellis appare irremovibile. . . Io apprezzo, è carino il messaggio. . Ma magari dopo una settimana di assenza. . . Dopo 81 giorni dovrebbe farmi ricordare quanto mi ama e quanto mi pensa. . Andrea Damante parla su Instagram dopo il messaggio per Giulia Delellis. . . Sarà che siamo tanto diversi, ammette Giulia. . Nel frattempo, Andrea ha assistito da casa la reazione della Delellis. . . Il Damante è rimasto male di fronte al comportamento della sua fidanzata. . . Ma soprattutto ci tiene a precisare che Giulia non è riuscita a comprendere il messaggio. Non l'ha capita. Questo è ciò che scrive Andrea su Instagram. . Intanto, il percorso di Giulia al GFV prosegue a gonfie vele, in quanto prima finalista. . . .